A Tante ad Alessandria, in Egitto, si celebrano i funerali delle vittime della strage della Domenica delle Palme. I kamikaze dell'Isil hanno colpito i cristiani copti in due chiese, provocando almeno 45 morti e 118 feriti. Il patriarca copto, Tavadros II, aveva appena finito di celebrare la messa. Contro i vertici del Cairo, nonostante l'arresto di due persone, esplode l'ira dei fedeli. Come è possibile che sia accaduto durante la nostra festa? Dov'è la sicurezza? L'attentatore è riuscito a passare con una cintura esplosiva di 6 kg. Non ci aspettavamo che delle persone che vivono con noi nello stesso paese, persone con le quali abbiamo condiviso amore e amicizia, facessero queste cose. Sul banco degli imputati c'è il presidente egiziano Al-Sissi, che aveva garantito al paese la sicurezza al prezzo della militarizzazione. Gli attentatori erano egiziani e il doppio attacco arriva a tre settimane dalla visita del Papa. Il Cairo ha rimosso i capi della sicurezza di Tanta e ordinato il dispiegamento delle forze speciali. Erano in 2000 nella chiesa quando il kamikaze si è fatto esplodere. Mentre il bilancio delle vittime saliva a 27, è arrivata la notizia del secondo attacco ad Alessandria sul sagrato della chiesa di San Marco. L'attentatore si è fatto esplodere nei pressi dell'entrata, almeno 18 i morti e una quarantina i feriti.